Bohemian Rapp allo steccato largo, una volta che ha preso posto anche Smooth Operator. Tutto pronto? Partiti! Cavalli del chiusura 2011. Tra i più veloci, Koenig Concord, il campione in carica che va subito in prima linea, superato all'interno da Abaton, che viaggia subito in testa a fare il suo dovere. Poi laddove all'argo, ancora più all'esterno, Bohemian Rapp a ridosso del big col cap nero. Per corsia interna si butta Blue Constellation, che ha al fianco Smooth Operator in giubba bianca e gialla. A chiudere Stark Danone in giubba grigia e nera, mentre per vie larghe c'è Pari Toupeki nelle posizioni di retroguardia, anche Sighting Life. Con Abaton in leggera evidenza sulle big e laddove, col cap rosso, molto largo Bohemian Rapp, Smooth Operator, insieme a The Big e a Blue Constellation in seconda linea, Pari Toupeki che rimane di fuori, Stark Danone sempre nelle retrovie. Queste le posizioni con Blue Constellation che va via cattivo a prendersi la posizione su Smooth Operator, nel seguire il leader Koenig Concord che nel frattempo scappa via traguardo molto lontano. Blue Constellation che va subito a ricucire questo gap. I due prendono vantaggio su Stark Danone che avanza a largo Smooth Operator per vie interne, così come Sighting Life. Blue Constellation si butta in caccia di Koenig Concord che si arrocca in corda. I due in piena bagarre con Blue Constellation di fuori su Koenig Concord di dentro che prova a ripartire. Poi Sighting Life e Stark Danone nell'ultimo tratto. Koenig Concord su Blue Constellation che prova ancora. Koenig Concord non si prende e vince chiusura per il secondo anno di fila. Su Blue Constellation e Sighting Life a completare il marcatore. Koenig Concord e Filippo Mineric per il signor Wolf & Frolic ai colori. Christian Splenger al training. Koenig Concord e Filippo Mineric per il signor Wolf & Frolic ai colori. Oh, nessun problema. For the cameras, ok. E siamo qui dunque per il Gran Premio Chiusura 2000...